Domanda. Quando una persona è invecchia? Risposta. Quando vuole vivere secondo i parametri della giovinezza e restare quello che era. Invecchiare bene significa accettare l'ultima parte della vita fisica, che serve per prepararci alla vita spirituale. Domanda. Perché il vecchio è spesso non gradito? Risposta. Questo è un espediente della legge d'evoluzione per staccare il vecchio da chi gli sta vicino e non farlo soffrire troppo nel momento del trapasso. Domanda. Perché adesso la vecchiaia è così lunga? Risposta. Perché il piano fisico attuale è ricco di esperienze e offre molte possibilità di comprensione.